Mauro, ma cosa hai in mano? Il volo dei gruccioni dei sabbioni? Sì, Dario, ho i voli dei gruccioni. Io vorrei regalare questa bottiglia a uno dei nostri follower, però prima andiamo a scoprire qualcosa in più e soprattutto a degustarla. Ci rivediamo qui dopo che mi racconti. A tra poco. Ciao. Finalmente sono venuto a trovare mio amico Fabio nella tua terra, nella Romagna, e siamo in un'azienda agricola i sabbioni. Cosa mi racconti di questo territorio? Questo territorio è la rappresentazione di quella che vuole essere questa azienda, un'azienda molto legata a queste sabbie particolari di origine preistorica, a questa vicinanza del mare, a tutto ciò che esprime la bellezza di questo vigneto in cui il vino è l'espressione di questo territorio fantastico. Ricordiamo che siamo in un'azienda che fa prettamente Sangiovese, in tutte le sue forme, in tutte le sue versioni, ma solo Sangiovese. Infatti la sfida che abbiamo voluto lanciare in accordo con la proprietà è di fare un vino bianco da una bacca rossa, proprio per esaltare ancora di più questo contesto di azienda che parte da questo vitigno del Sangiovese. Parliamo del territorio come conformazione. Qui abbiamo praticamente sabbia. Cosa è che dà questa sabbia, questo territorio al vino? Questa sabbia particolare è sabbia gialla, sabbia direi più di origini del Martireno che del mare Adriatico. Conferisce questa grande mineralità, questa grande sapidità. zona fresca perché il mare dista da noi 35 chilometri, per cui quello che poi si ritrova nei vini che assaggeremo parte veramente da questa sabbia che preserva, che dà longevità al vino e che lo caratterizza di più rispetto a altre zone della Romagna. Il vitigno Sangiovese è stato scelto sulla base del terreno? Certo, qui la parte di chi ha fatto tutta la parte agronomica di Francesco è stata proprio impostata partendo da quello che era il terreno. Era importante capire il terreno per poi adattare sia il tipo di allevamento della vite e anche scegliere il crono di Sangiovese. Siamo in un terreno sabbioso perché? Tu hai parlato di terreni preistorici. Una volta qui cosa c'era? Qui c'era il mare. Qui c'era il mare e proprio negli anni 80 in un vigneto particolare che poi vedrete è stato riscoperto questa testa con le zane del mammut che sono lunghe circa due metri e mezzo che oggi è presente al museo a Faenza. Mammut che riprende un po' il logo dell'azienda. Certamente, abbiamo pensato che fosse giusto riprendere il ritrovamento di questo mammut. So che Francesco mi sta aspettando per farmi assaggiare qualcosa. Cos'è che secondo te mi farà degustare? Sicuramente i voli dei gruccioni che tra l'altro, se non sbaglio, è il vostro vino più fruttato. Più fruttato è quello che ricorda di più queste sabbie, questo territorio. Bene, andiamo, andiamo. Francesco, finalmente ti ho raggiunto e qui assaggiamo i voli dei gruccioni. Il vino che dovrebbe essere quello più fruttato, giusto? Un po' quest'idea di unire la componente romagnolità assieme a questa memoria del mare. I gruccioni. Perché il gruccioni ha un bellissimo uccelletto e la cosa divertente è che non fa il nido, ma scava il nido. Quindi quando vedi il gruccioni e lo vedi perché è un uccellino molto colorato vuol dire che sia in un ambiente di sabbia. Quindi questo gioco per portarci nel calice un pensiero di territorio e di roccia da qui il nome gruccioni. Appena lo mettiamo al naso, ce ne accorgiamo immediatamente perché qui c'è lo iodio. E poi inizia il frutto, quindi si sfiora il sottobosco, la felce, tantissimo ribes per poi appena prende un po' d'ossigeno iniziare a stricciare l'occhio al mandarino. Veramente faccio fatica a identificarne uno solo. Mi ricorda un piatto di frutta fresca. Un bel frutto, mai banale, associato alla profondità. È elegante, è facile, è alla portata di tutti. È atipico, se vogliamo, rispetto ai classici sangiovese che noi conosciamo. Però è veramente eccezionale. Di sapore, gioca più sulla parte fragrante e salina rispetto a quella tannica. Qua arriva e lo rende un vino possibile anche d'estate e non per forza fortemente legato al cibo. Veramente, è un tannino molto elegante, molto leggero, è equilibratissimo e, piccola nozione tecnica, come vi dicevi prima, è bassissimo di solfiti. Abbinamento. Vuole essere un vino da consumo gioioso, quindi bene, come stiamo facendo adesso, il calice non per forza legato al cibo. Non posso che proporre un brindisi a questa scoperta, per me, a questa interpretazione di questo sangiovese, veramente emozionante. Fini. Allora, Mauro, com'è andata? Beh, benissimo. Il sangiovese, i voli dei gruccioni, è atipico, ma fresco, estivo, fragrante, fruttatissimo. Sicuramente da provare. Lo possiamo consigliare, quindi? Ma assolutamente, senza dubbio. Ma lo sai che non è l'unica puntata che facciamo dei sabioni? E spero neanche l'ultima bottiglia di vino che assaggiamo. Assolutamente. Assolutamente.